Partite le opere di ristrutturazione della masseria Verbumcaudo, bene confiscato alla mafia, polizia generosa nel Palermitano e acquisito dalla regione siciliana, gestito al 2019 dalla cooperativa sociale Verbumcaudo. La consegna dei lavori è avvenuta stamattina. Nell'ambito della missione 5, coesione e inclusione del PNRR a favore dei beni confiscati, la regione ha potuto aggiudicarsi un finanziamento da oltre 5 milioni di euro. I lavori saranno eseguiti dalla ATI-ICORED-Scancarello di Bagheria, avranno una durata di 650 giorni. Prevista la ristrutturazione dell'ala nord-est della masseria, testimonianza dell'architettura feudale siciliana del Cinquecento, estesa per 960 metri quadrati. L'intera azienda agricola si estende complessivamente per circa 150 ettari in territorio madonita. Gli interventi saranno utili a sostenere le attività produttive della masseria, ma anche per promozione sociale e della cultura e della legalità attuate dalla cooperativa Verbumcaudo, tra cui laboratori per scuole e giovani, inserimento sociolavorativo di soggetti fragili e divulgazione. Previste la rifunzionalizzazione della masseria mediante spazi multimediali e l'acquisto di attrezzature agricole per la produzione di olio, vino e formaggi. Ancora la riqualificazione energetica della struttura e la sistemazione di alcuni tratti delle strade provinciali di accesso alla masseria.